eccoci con un'altra bella novità questo è un berretto per non vedenti riesce a vedere gli ostacoli e tramite una vibrazione avvisa la persona della distanza dall'ostacolo ci sono vari livelli di intensità di vibrazione in base alla distanza si può impostare qualsiasi distanza si vuole in questo caso si parte già da un metro e venti e con una piccola intermittenza poi si arriva nell'intermittenza sempre più forte fino ad un segnale continuo quando si è a 20 centimetri circa dalla visiera è un sistema che si può staccare e applicare a qualsiasi berretto può servire ovvio che serve sempre il bastone però può servire come aiuto nel caso il bastone per esempio finisca sotto la rimorca di un camion e non si sente l'ostacolo e si continua ad andare avanti e questo berretto ti avvisa che si sta andando all'ostacolo io l'ho provato in casa con gli occhi bendati e muovendo la testa praticamente ci si rende già conto di dove possono essere eventuali porte eventuali muri abbassando la testa si si riescono a individuare i tavoli speriamo di migliorarlo speriamo che serva qualcuno